Una delibera che lascia molte perplessità. Stiamo parlando dell'atto amministrativo con cui il comune di Bassano ha sancito l'accordo con la Belfiore per l'utilizzo delle aree di via Pusterla per la ristrutturazione del Ponte Vecchio. La domanda sorge spontanea, ma l'amministrazione Poletto è realmente contro la costruzione della centrale elettrica? I dubbi sono legittimati da questo documento. Eh sì, perché nel contratto di comodato d'uso sottoscritto si parla chiaramente di garantire la coesistenza tra i due cantieri, ma non solo, ci sono anche delle date. La prima è il 26 ottobre del 2017, data ultima fissata per l'inizio dei lavori della centrale. La seconda è il 15 maggio del 2018, data entro la quale il comune dovrà ripristinare la funzionalità del canale per permettere il corretto utilizzo della centrale stessa. Se si dovesse andare oltre questo limite sappiamo che il comune dovrà pagare il canone della concessione al posto della Belfiore, 500 euro ogni mese circa. Di più l'amministrazione ha controfirmato questi allegati, dove non ci sono solo le aree interessate dal cantiere, ma anche le planimetrie e il progetto della centrale. Insomma, il comune ha firmato in calce un progetto di cui non auspica la realizzazione, quantomeno paradossale. C'è da dire che l'amministrazione ha specificato che questo accordo non pregiudica l'azione legale promossa al Tribunale Superiore delle Acque contro la centrale, ma siamo sicuri che questo contratto con tanto di delibera non possa diventare un'arma in più in mano alla Belfiore in sede giudiziaria? Insomma, le incertezze legate a questo progetto aumentano con il passare dei giorni e le nubi all'orizzonte iniziano a farsi sempre più minacciose.